L'abuso d'ufficio era lo strumento di difesa dei cittadini contro le violazioni, le prevaricazioni, le angherie che di volta in volta può commettere il potere pubblico. Di fronte al potere pubblico da 200 anni il cittadino ha come tutela penale l'abuso d'ufficio. Ecco dopo 200 anni viene eliminato perché non si riesce a capire se non nel senso che bisogna proteggere coloro che esercitano determinate attività e non il cittadino. Il cittadino più debole l'ha abbandonato. Questo è molto grave, lo abbiamo ritenuto veramente un fatto devastante anche per la legalità, dire che non esiste più la tutela penale, i principi di buona amministrazione e di imparzialità e consentire quindi che le regole possano essere violate senza che vi sia una sanzione penale nel momento in cui tale violazione è finalizzata a procurare a sé o ad altri un beneficio, un vantaggio patrimoniale. Questo per noi è molto grave. L'Italia Viva non so se faccia parte realmente dell'opposizione perché l'ho vista spesso votare con la maggioranza quindi dico che le opposizioni sono state compatte su questo. Vorrei sfatare il mito degli amministratori che hanno chiesto. La mia esperienza è che i sindaci, soprattutto quelli che operano nei territori di mafia, di indrangheta, di camorra, i sindaci corretti vogliono le regole e volevano l'abuso d'ufficio perché potevano dire all'uomo di indrangheta, al camorrista, al mafioso, guarda non lo posso fare altrimenti vengo condannato per abuso d'ufficio. Oggi non potrà dire questo ma di fatto è un gradino verso la corruzione. L'abuso d'ufficio consente di svolgere attività che finiscono per creare delle vere e proprie reti clientelari reti clientelari finalizzate ad avere poi vantaggi reciproci ma il vantaggio può essere anche quello di un sostegno elettorale, può essere qualunque il vantaggio. Quindi l'esempio che diamo alla società è potete violare la legge, potete creare dei vantaggi, comunque il reato non c'è più. Ecco appunto nel contesto delle eco-mafie, adesso che succede secondo lei? Ma in ogni caso in cui un amministratore pubblico conferisce un vantaggio attraverso un provvedimento o un atto viziato per uno dei vizi amministrativi propri, eccesso di potere, violazione di legge ecco, quel comportamento che consiste in un provvedimento in violazione delle leggi non sarà più perseguibile, quindi non costituirà più un reato. Ma noi stiamo aprendo alle illegalità, questa è la verità, a tutte le illegalità, a quelle illegalità che una volta si perseguivano attraverso l'abuso d'ufficio. Grazie.